Somba mia Non il 99 Potrebbero anche aumentare Vediamo Cioè Spesso non so cosa cazzo digli Infatti gli mando solo cosa cazzo digare Fra Che gol ho fatto Che son tattico Vai sei pronto fra Vai con i soldi della droga Vediamo lo schifo Argentino Richelme O è bianca Oddio Nicola Oddio 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 L'ho trovato veramente sto schifo Sì Giotto cazzo Non c'ha capito un cazzo fra Oh art Oh Brava art No dai lì sto art Stanno schifo fra E' quello che prende Dovano essere Pagato giocatori Dari Quello si che era buono Ecco qui Oro Bandierina oro normale Cosa me ne fa Eh fra 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 No dai Cosa me ne fa Cosa me ne fa Ah si, ma non è che guarda Ah, non è che guarda ho salvato la clip no ma che cazzo dai cazzo il gioco di guardalo ma c'ha fatto no no io non ho visto manco qualcosa signor 1 voglio schiere e non gira quanto potenza che non è come attenzione ma fa cagare questo qua di poi non sono dimmi davide finale passato Non ci voglio crackers Non ci credo Sì Andiamo col sinistro E accendiamo Vabbè entro adesso Mamma mia come l'ha sfondato Pfff Un vaffanculo Un vaffanculo Un'altra coppa vinta Un'altra coppa vinta Un'altra coppa vinta Ha 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 Fa vedere Eccola Guarda la coppa che è buggatissima Coppa è buggatissima Ma il programma è schifo Tutto è durato un'ora Ma la sta alzando Ma no ma non più Mamma mia Ma 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 Buggatissima Un'altra coppa Un'altra coppa Un'altra coppa Un'altra coppa Ma C'è anche se stai Usando tutta la squadra Non puoi Non puoi prenderlo quello non puoi prendere uno da cui battere da cui battere no qui ti amo dai vai 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 si 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 no ok cosa che culo bello che cazzo di gol scusa zitto 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 che gol della madonna piangete nel corner non ho visto che era in porta ahahah ahahah godo 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 da raga mannaggia che sto soppando tutto io ho volato via no no finisci di grabare mannaggia la puttana ma c'è lo spruzzo che grabba eh ivan è sempre lui che grabba ahahahahah sei di una simpatia sono simpatica come una pagina ma si può morire di avere una pagina arancia e me arancia e me me ehi mela c'è tutto qua ehi mela arancia e me arancia e me dammi l'arancia mela 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 vieni c'è pure l'arancia mela è sempre a portata di fuori alla uva è la mince non sono perso Qua 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 ciliegia anguria e mela ok banana ciliegia anguria e mela dove cazzo era la ciliegia no mi sa che è sbagliato qua oddio io sono andato quindi che danno ma sapevamo un cazzo è quello è quello è quello è quello abbiamo visto la massa era quello il forzo c'è un 2006 d anche a me la finale è ancora più difficile beh però è bello questo ci sta voglio fare che sia quello di qua ah ma vanno giù i pezzi? no qua no ah ma allora non è quello leggendario è semplicissimo non è la finale leggendaria questo ma allora è stanz si può essere stanz ma stings se non ti arriva male se ti arriva male è bello che stings se ti arriva male è bello che stings oh cazzo ho visto della gente volare giù minchia ora è velocissimo e io corro più veloce anche se non rispondi c'è che ho volato giù ok io sono passato e io no si sono passato io stai nel blu probabilmente siamo quelli in dimenno di tutti no non è vero sono tutti 5 siamo in 15 dal tuo tira 5 dai lollo aia lollo aia aia e allora lì guarda un po' un cazzo segue la pala e basta manca lo spingo eh potevo spingerlo bravi sul palo guarda che ritardato qui ahahahahah vabbè guarda i rossi che schifo eh secondo me c'è il giallo e il rosso aia non avere per il cazzo aia oh guarda che passano i rossi guarda che passano i rossi a 10 anni l'ho libero non se lo sto spingendo la pala e siamo rimasti in 10 corone ah quindi tu 0 finale bene finali non ho mai vinto Ivan tu hai mai vinto una finale? una volta si solo uno eh io sono solo uno cazzo di mio raga raga questa è la sfida per chi vince più finali non è semplice io sono un cazzo di mio non lo trovo ma perché sono in 50 che la vincono quindi aia vediamo lol ogni volta mi fa spawnare agli altri io voglio vedere lol eh si mamma giorgio mamma giorgio dai che sfiga oh giorgio ce la sei per fare sei primo sei secondo no non è vero sei quarto sei quarto sei quarto l'ho lì l'ho lì l'ho lì è tuo l'ho lì sei da solo l'ho lì ci sono quelli sulla sinistra mamma mia l'ho lì vinto è la tua prima corona siiii lol ha vinto la prima finale eccola super giorgio lol eccola si gode e adesso ti ha alzato la champions league l'ho già dimenticato è qua è qua è qua è qua è qua LINCA έχει un'altra ho si che gott vraiment sarà questa invece? no aiuto no lo scoglietzo! oddio! 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 no! no! non ci voglio credere! cos'è sta partita? cos'è sta partita?